A poche settimane dalle elezioni regionali il consigliere di Italia Viva Federico Talecchi ha deciso di candidarsi per il suo secondo mandato. Questa sera incontrerà la cittadinanza e i cittadini di Fanno alla tenso struttura di Sassonia. All'incontro interverranno anche il candidato governatore per il centrosinistra Maurizio Mangialardi, il sindaco di Fanno Massimo Seri e il capogruppo in regione di Italia Viva Fabio Urbinati. Cominciamo subito perché il sindaco ci deve lasciare. Ringrazio subito il sindaco Massimo Seri per la sua presenza. Sindaco, oggi è una giornata importante, in mattinata il ministro Belano Vafano, ora la presentazione di Talè alla tenso struttura di Sassonia. Lei ha portato il suo saluto. Sì, beh, la presenza di un ministro è sempre importante in un territorio. In questo caso il ministro dell'agricoltura è significativo perché questa città è un punto di riferimento per tante realtà che operano nel mondo agricolo, cooperative tra le più importanti della provincia. C'è un tessuto che coinvolge tante maestranze e comunque un punto di riferimento. Quindi è un riconoscimento ma soprattutto è un'occasione anche di confronto su tutte quelle che sono le politiche agricole. Oggi c'è la presentazione anche di questa lista che porta Mangialardi come candidato presidente. È una lista che comprende più soggetti politici, è una lista dei riformisti, è una bella lista con un patrimonio e candidati importanti di riferimento per il territorio. Quindi sono qua per la duplice importanza e per portare anche così la mia vicinanza a questo momento, a questa sfida regionale perché non dobbiamo dimenticare che parliamo del governo della nostra regione, per la città come Fano. La regione è un riferimento importante ed è giusto e importante avere anche riferimenti del nostro territorio che ci rappresentino. In questi anni, io non posso che parlare bene della regione perché in questi anni effettivamente per il nostro territorio sono arrivate tanti progetti, tante risorse. È stata una giornata molto molto intensa, rappeto, stamattina poi, mi assicuro che rivedere la gente, poterci riconfrontare e ritoccarla è una cosa che mi piace molto. Alla fine i candidati a presidente in questa regione sarebbero tre o quattro, quattro forse, quattro. Beh, l'unico europeista vero è il sottoscritto. Gli altri sono sovranisti, sono quelli che quelle risorse non le vogliono, sono quelli che dicono che noi ce l'avremmo fatta da soli, dicono che quell'Europa non ci serve. Ricordatevelo perché se no, se no veramente siamo tutti uguali. Mangialardi, altra tappa a Fano, sono giornate impegnative queste. Ha detto prima uscita con Federico Talè, prima uscita anche con questo nuovo simbolo. Ha detto che farete una squadra di persone capaci, insomma la capacità serve per fare una squadra vincente. Sì, sono molto soddisfatto, intanto perché rivedo un po' di gente diretta. Sto girando tutte le marche, c'era la necessità di presentarmi con il nuovo simbolo e con Federico. Ha aiutato molto questo percorso, un centro-sinistra unito, lo facciamo con una bella presentazione, uno scorcio meraviglioso, quindi tanta energia e tanta prospettiva per questa regione. Tra l'altro diceva che è l'unica situazione in Italia di questo centro-sinistra unito. Sì, sono anche molto orgoglioso, se vedete su tutti i simboli c'è il mio nome, questa cosa aiuta molto. L'unica situazione dove da articolo 1 fino a azione stiamo tutti insieme, un bel segnalo e anche per l'intera nazione. Ha avuto l'occasione anche per fare un piccolo bilancio di questi ultimi mesi, intanto sul fronte sanitario? Beh, intanto sono successe tante cose, dobbiamo rivedere un'impostazione del nostro piano, ma vedo che il confronto con i cittadini, con le imprese, con il volontariato sta andando molto bene, capiscono l'entità del progetto anche in ambito sanitario. Quindi un grande progetto quello che serve, ci state lavorando, lavorerete su più fronte anche su quello delle infrastrutture? Beh, c'è una grande occasione da europeista convinto che arrivano delle risorse importanti per l'Italia e vogliamo porre una questione, una vertenza a Marche, come ho già chiesto al Ministro Gualtieri, per risolvere dei temi che sono in evasi da troppo tempo per mancanza di risorse. Oggi ci sono e le sfrutteremo al meglio. La maggior parte delle leggi che abbiamo portato a termine, che sono state votate in Consiglio regionale, le mie, sono state votate quasi tutte all'unanimità. Cosa significa? Che non erano leggi di parte, erano leggi che venivano dalla gente e che sia la destra che la sinistra le ha votate. Tale è una giornata che è iniziata presto questa mattina, intanto con il Ministro Belanova che per impegni istituzionali non ha potuto partecipare, però insomma ci teneva ad essere presente. Sì, ci teneva tanto ad essere presente, purtroppo è dovuta scappare via per questa riunione propedeutica al Consiglio dei Ministri che ci sarà probabilmente giovedì, proprio per il decreto agosto. È stata l'occasione questa per fare un po' anche un bilancio del suo lavoro di questi ultimi 5 anni. 5 anni di passione, ha detto lei, una passione che è nata all'età di 18 anni. Sì, a 18 anni, infatti come dicevo questa mattina dico, oddio, affanno come comincio. Comincio come ho iniziato da piccolo, a 18 anni mi ricordo che non ero contento delle cose, delle strutture che c'erano al mio paese dove sono nato, a Mondavio, e quindi non c'era una pista polivalente dove poter giocare, dare due calci e un pallone, ma eravamo costretti a giocare nel fossato della Rocca come nel 1500 e allora mi candidai, giovane, 18enne, e da lì la passione non finì più, questa passione più che del parlare, del fare. Tant'è che quella pista polivalente la facciamo e adesso, oggi, questa sera, ne ho approfittato per dire un pochino tutte le cose che siamo riusciti a fare e le leggi che siamo riusciti ad approvare in Consiglio. Fra l'altro è stata una sorpresa anche per me, quando siamo andati a contarle, queste 28 leggi proprio preparate, studiate da me, sono il consigliere che ha fatto più leggi di tutto l'arco costituzionale, insomma dei 30 consiglieri che siamo. La maggior parte delle quali approvate l'unanimità e come ha precisato lei anche scritte insieme alla gente, tra la gente. Sì, votate l'unanimità, di questo ne vado orgoglioso, la maggior parte, perché vuol dire che sono temi che non sono né di destra né di sinistra, come dico sempre io, che molti provvedimenti non hanno una connotazione politica, non sono né di destra né di sinistra, sono provvedimenti che servono alle persone e quindi vanno fatte, nonostante che qualche volta vanno contro l'ideologia di destra o contro l'ideologia di sinistra. Quando un provvedimento serve, serve. E quando una legge studiata da te e portata in Consiglio viene votata sia dalla tua parte politica che dall'altra, è una grande soddisfazione. In particolare quelle che riguardano le persone più deboli, le fasce più deboli. Sì, la cosa che mi ha sempre appassionato da piccolo è anche un valore che mi porto dietro. Come dicevo, i valori li portiamo noi addosso e non sono scritti nelle baccheche dei partiti. Uno di questi è quello che dico che la politica, le istituzioni, molte volte servono alle persone più svantaggiate. E noi che siamo, tra virgolette, più fortunati, dobbiamo sicuramente pensare di più a loro. Molte di queste leggi, infatti, sia l'accessibilità alle spiagge, questa legge è fatta oramai qualche mese fa sull'accessibilità alle spiagge, sia l'accessibilità ai parchi, come l'ultima legge sui disturbi del comportamento alimentare, e, ripeto, è la prima causa di morte dei giovani, dei ragazzi italiani dopo gli incidenti, sono proprio i disturbi del comportamento alimentare. Quindi ci riferiamo all'anoressia e alla bulimia. Ci sono famiglie distrutte, divise, ma anche proprio è una malattia che divide la famiglia e quindi i genitori proprio si divorziano per questa malattia dei figli. È una piaga che abbiamo in Italia, è una piaga che abbiamo nella Regione Marche e anche nella provincia di Pesaro. Ho fatto una legge, insieme alle famiglie, anche questa legge viene dal basso, perché insieme ai rappresentanti delle famiglie colpite da questo disturbo, abbiamo promulgato questa legge, molto, molto importante, che doterà tutti questi centri, sia della provincia di Pesaro che delle altre province e delle Marche, di tutte le figure professionali che servono, insomma, a curare questa malattia. Continuiamo a guardare il futuro, si impegnerà anche sul fronte dell'agricoltura. Sì, e l'agricoltura invece è sempre stata la mia passione. Non lo so, probabilmente perché viene dagli avi, i miei sono stati sempre agricoltori, mezzadri, eccetera, e quindi è la mia passione. Ho lavorato cinque anni in agricoltura alla Confederazione Italiana Agricoltori di Fano, fra l'altro, e quindi nei prossimi anni, Fano, fra l'altro, è il centro agricolo per eccellenza della provincia di Pesaro ed è per questo che ho portato il Ministro, ho voluto che il Ministro venisse a Fano e conoscesse questa realtà, però nel prossimo mandato mi auguro, e farò di tutto, per cercare di seguire anche questo settore. Il 20 e 21 settembre si andrà alle urne per votare per le elezioni regionali. Ricordiamo ai telespettatori qual è il vostro simbolo e anche perché devono sostenere Federico Talè. Allora, il nostro simbolo, noi abbiamo fatto un accordo con i civici, con il Partito Socialista, quindi i simboli sono tre simboli all'interno del simbolo di Italia Viva. Ecco, è un accordo che abbiamo fatto a livello regionale, quindi più che altro tra PSI e Italia Viva, insieme a Demos e i civici, quindi il simbolo è importante vederlo prima perché per fare in modo che Federico Talè vada in regione non bisogna scrivere Talè di fianco al PD, ma bisogna scrivere Talè di fianco a questo nuovo simbolo, quindi barrare il simbolo e di fianco bisogna scrivere la preferenza. Perché votare Talè? Per quello che ho detto questa sera, se si vuole un presidio per quanto riguarda la questione del sociale, per quanto riguarda la questione del turismo, perché non abbiamo parlato adesso di turismo, ma a Fano il turismo è importante, e da ex sindaco di Mondavio ho sempre seguito il turismo come una delle questioni più importanti della regione Marche e anche della provincia di Pesaro e anche dei paesini dell'entroterra. Mondavio, quando facevo il sindaco, è diventato Borghi più belli d'Italia, ha preso la bandiera arancione, la blu non sono riuscito a farla prendere perché non abbiamo il mare, però ci siamo spinti al massimo per cercare di portare gente e per cercare di creare turismo. Quindi insomma, quello che diceva lei, serve anche competenza in questo caso perché non ci si improvvisa politici? No, non ci si improvvisa politici, mi raccomando, come in qualsiasi altro lavoro ci vogliono le competenze, anche per far politica ci vogliono le competenze. E penso che in tutti questi anni non è vero che bisogna votare chi non fa politica da tanto tempo, perché anche questo è un luogo comune, no? Ah, ci ha stancato, è troppo tempo che fa politica. No, non è così. Bisogna vedere che tipo di politica ha portato avanti fino adesso, perché uno che fa politica da tanti anni, ma che comunque è apprezzato dalle persone perché è vicino alle persone, penso che debba continuare a far politica. Il governo nazionale non dipende dalle regionali, ma dipende il futuro delle Marche. Lo diciamo ai cittadini delle Marche. Volete una regione che investe sulla sanità i soldi del MES, come Maurizio Mangialardi farà se sarà eletto presidente, o volete una regione che invece lavora nel fronte sovranista, anti-europeo, come vuol fare il candidato a Cuarolli di Fratelli d'Italia? La scelta è per voi, per il vostro futuro. Non c'è una partita nazionale, c'è una partita delle Marche e il buon governo contro l'ideologia. Renzi, lei è venuto qua a Fanno sicuramente in vista delle elezioni regionali, ma anche per presentare il suo ultimo libro, La Mossa del Cavallo. Ci vuole coraggio in politica? Diciamo che La Mossa del Cavallo è un titolo che nasce un anno fa da quello che ha fatto Salvini, che forse perché aveva preso qualche moito di troppo ha cercato di raggiungere i pieni poteri. Se avesse vinto lui, se avesse vinto Salvini, oggi avremmo un paese molto in difficoltà, un paese più simile al Brasile di Bolsonaro che non all'Europa nella gestione del Covid, è un paese fuori dall'Europa. Oggi la vera sfida è quella di riportare passione per la politica contro il populismo e in questo la sfida delle Marche è precisa, precisa la sfida più importante. Perché? Perché tu c'hai da un lato chi governa con la forza delle idee, chi ha fatto il sindaco, chi conosce l'amministrazione, e dall'altro c'hai una coalizione guidata da Fratelli d'Italia che a Roma con la Meloni urla tutti i giorni contro l'Europa, contro il MES, contro i denari di chi invece dall'Europa ci ha salvato in questa situazione. Quindi la sfida è nelle Marche, la prossima mossa del Cavallo è nelle Marche. La mossa del Cavallo l'anno scorso era in Emilia-Romagna al Papete, adesso scendiamo giù. Lei vede qui Federico Talevede e altri candidati, noi siamo quelli che faranno fare la differenza perché Mangialardi sia avanti di uno. Il risultato è che noi saremo decisivi. Grazie, grazie mille. Lo aveva annunciato Federico Talevede e Matteo Renzi ha mantenuto la promessa. Siamo tornati alla pensostruttura di Sassonia Fano per l'incontro pubblico con il senatore fondatore di Italia Viva che per l'occasione presenterà anche il suo ultimo libro. La prima mossa del Cavallo, di cui parli anche nel libro, è questo aver ribaltato il tavolo e dire no, invece di andare a votare facciamo un governo con il Movimento 5 Stelle spiazzante perché Matteo Renzi è sempre stato quello assolutamente contrario. Ho visto i capelli bianchi che mi sono veduti. Allora, a un anno ce ne siamo un po' pentiti visto che i 5 Stelle sui temi del lavoro, dell'economia, sono un po' ancora ossici, ci sono barbarizzati a metà o comunque ne è valsa la pelle? Allora, poi mi piacerebbe chiederlo a voi un anno fa più che la mossa del Cavallo, di Renzi abbiamo celebrato la mossa del Ciucco di Salvini perché diciamo la verità, ha fatto tutto da solo l'Adriatico è meraviglioso, quello più a nord evidentemente picchiava un po' di più in quei giorni il sole perché chiedere i pieni poteri significava da parte di Salvini volere un modello istituzionale in cui lui decideva tutto e quando Emilia dico tutto dico Presidente del Consiglio Salvini, Vice Presidente Meloni Presidente della Repubblica un sovranista anti-euro io ho visto sto film qui non ho visto soltanto la campagna elettorale di Salvini che aveva già fissato, era il beach tour avrebbe fatto una campagna elettorale per le spiagge in mutande a suon di mojito, si avrebbero riso dietro in tutto il mondo Buonasera a tutti, intanto Matteo grazie grazie veramente di cuore perché sei qui siamo insieme di nuovo e solo nelle Marche abbiamo questa bella occasione del Partito Democratico Articolo 1, Italia Viva e tanti civici che stanno insieme Comunque il governo regionale ha fatto la sua e si è comportato io dico molto bene con fatica, con fatica perché non so se ti ricordi ma abbiamo dovuto, addirittura siamo stati da parte di Conte e ci ha denunciato al TAR perché volevamo chiudere le scuole e poi nonostante la denuncia al TAR le abbiamo chiuso ugualmente perché sapevamo benissimo che dovevamo chiuderle Lo aveva annunciato nelle nostre telecamere proprio pochi giorni fa e Matteo Renzi ha mantenuto la promessa Sì, Matteo Renzi ha mantenuto la promessa me l'aveva promesso diciamo tempo fa come Teresa Bellanova e tutti e due sono stati di parola questa sera è stata una bellissima serata non me l'aspettavo così tanto gente ma così tanto entusiasmo Renzi ha colto l'occasione di presentare anche il suo libro suo ultimo libro, La Mossa del Cavallo anche lei ha parlato di coraggio di far politica Sì, infatti La Mossa del Cavallo è un libro che ho letto subito perché mi avevano già preannunciato che c'erano dei temi che mi interessavano molto il motivo per cui ho cambiato partito è proprio per questo perché ero stanco di stare in un partito dove non si potevano fare determinate mosse o determinate leggi in regione perché si disturbava qualcuno non se ne potevano fare altre si disturbava qualcun altro quindi questo coraggio delle scelte e infatti nel suo libro, come ho detto prima a pagina 44 del libro di Renzi c'è proprio un capitolo intero dove dice che per far politica ci vuole coraggio e quindi in Italia Viva questo coraggio l'ho trovato un altro tema importante e ho detto prima, lo si legge già dalla copertina del libro è quello appunto del patto tra generazioni è importantissimo con questo Covid abbiamo capito e soprattutto io sono rimasto male dal punto di vista morale quando sentivo dire sì, è successo ma è un anziano aveva 70 anni e allora ho fatto l'esempio mio padre non ha 70 anni ne ha 81 ma va tre volte alla settimana in bicicletta da corsa e fa 50 chilometri non solo mio padre fa il nonno e tiene i figli di mio fratello che è più piccolo e quindi c'è figli più piccoli e quindi dà una grossa mano alle giovani generazioni ho detto giovani generazioni a cui non serve il reddito di cittadinanza ma serve un lavoro questo è scritto e stampato anche nel libro di Renzi mancano poche settimane alle elezioni il mio appello è questo cerchiamo di votare la gente che conosciamo cerchiamo di votare e guardare anche la competenza di chi andiamo a votare non votiamo per partito preso non stiamo a guardare soltanto i sondaggi o il partito a Roma guardiamo anche quello che un candidato ad esempio un candidato come me uscente ha fatto in questi cinque anni i miei temi l'ho sempre detto quali sono sono quelli del sociale sono quelli dell'impresa sono quelli e quindi dell'agricoltura e del turismo questi sono i quattro temi a cui mi dedico di più mi sono sempre dedicato di più naturalmente il tema dei temi quest'anno è in campagna elettorale ma perché sarà un tema sicuramente per tutto il prossimo mandato fondamentale è quello della sanità dovremo fare grandi riforme per quanto riguarda la sanità queste grandi riforme fra l'altro questa sera ne parlerò proprio con Matteo perché una delle emergenze più grandi una delle riforme più grandi sarà quella di modificare il decreto settante il Balduzzi abbiamo come dire depauperato il territorio della sanità territoriale dobbiamo rinserirla Giulia sono andata là avevo preparato anche per te grazie a tutti grazie a tutti